Un museo per mostrare al pubblico la faccia invisibile del mondo animale, quella dei microorganismi, batteri, microbi, virus. Il progetto Micropia è nato 12 anni fa ed è costato 10 milioni di euro. Ora, ad Amsterdam, è una realtà. Vogliamo mostrare al mondo la natura da cui deriva la vita, quella microscopica, spiega il direttore del progetto Hyde Balians. Il nostro è una sorta di zoo dei microorganismi. I primi a popolare la Terra, presenti sul nostro pianeta da 3 miliardi e mezzo di anni e ancora oggi essenziali per la vita. Un esempio tra i tanti, il 50% dell'ossigeno presente nell'atmosfera terrestre è prodotto dalle microalghe degli oceani. I batteri sono ovunque, continua il direttore del museo, nel solo corpo umano sono presenti circa 100 trilioni di microorganismi che ci aiutano a vivere, a crescere, a produrre anticorpi e a digerire. La natura invisibile di Micropia è visitabile ogni giorno all'interno dello zoo di Amsterdam.